La nostra idea d'impresa è Easy Myself. Ciò che oggi vogliamo proporvi è un piccolo dispositivo capace di contenere innumerevoli informazioni e dati personali. Che potranno essere caricate e aggiornate tramite computer per poi essere visualizzate in qualsiasi luogo con un apposito lettore. Questo dispositivo può essere contenuto in oggetti di uso quotidiano. Che ne dite per esempio di un braccialetto, un anello, una collana oppure anche un orologio? I vantaggi di Easy Myself sono diversi. Elimina numerose tessere e documenti ingombranti e inoltre favorisce l'identificazione immediata del processore di Easy Myself. È utile perché ci consente di avere sempre con noi tutti i dati di cui necessitiamo nel corso della giornata. Pratico ed elegante perché oltre a non essere ingombrante ci permette di dare un tocco di stile in più alla nostra personalità. Di ridotte dimensioni perché nei suoi pochi centimetri contiene innumerevoli informazioni. E soprattutto senza sprechi perché sostituisce tutte quelle tessere che siamo costretti a portarci appresso. Il nostro prodotto è rivolto a tutti i potenziali cittadini. In particolare risulterebbe vantaggioso per coloro che viaggiano spesso, evitando così di dimenticare i documenti necessari a casa. Ma chi sono i nostri principali concorrenti? Sono tutti i grandi produttori che operano nel settore tecnico informatico, quali Apple, HP, Samsung. Insomma, tutte le carte sono in regola e il nostro slogan è Easy Myself! Grandi informazioni in uno spazio così! Sono Matteo, Marta, Sofia, Martina, Beatrice, Giulia, Davide, Luca, Andrea.